Buonasera Stefania Craxi, Presidente della Fondazione Craxi. Lei è stata deputata prima con Forza Italia, poi con il Popolo della Libertà, ha ricoperto, se non sbaglio, la carica di sottosegretario agli affari esteri e ha lanciato riformisti italiani. Oggi che fa? Oggi mi occupo, come faccio del resto da tanti anni, della Fondazione Craxi. È nata quattro mesi dopo la morte di Bettino, con l'intento di restituire onore e meriti a un uomo che ha lavorato 40 anni per il suo paese. La storia lo dirà. Oggi, 2017, qual è il ricordo? Una domanda banale, ma ha un suo senso. Qual è il ricordo che ha di suo padre Bettino? Purtroppo ho il ricordo degli anni più dolorosi, più forti. Ho il ricordo della sua morte quando io ero presente. e quindi non sono dei bei ricordi e ho il ricordo di un'ingiustizia che ancora fa male. Ci faccia capire perché il suo padre merita di essere ricordato, al di là delle vicende giudiziarie, che sono un capitolo a parte, eccetera. Perché merita di essere ricordato? Guardi, non sono un capitolo a parte. Craxi è stato un patriota che ha amato l'Italia e gli italiani e il finanziamento illegale dei partiti fa parte della storia dell'Italia e degli italiani. Quella prima repubblica si è svolta in un periodo del mondo che si chiamava Guerra Fredda, una guerra che si è combattuta con tutte le armi, lecite e illecite. C'era il partito comunista più importante del mondo occidentale, che voleva che l'Italia ruotasse sotto legida dell'Unione Sovietica, del comunismo mondiale, che prendeva soldi e ordini da un partito, da una nazione militare nemica dell'Italia. E c'erano i partiti del fronte occidentale che volevano tenere l'Italia legata all'Occidente, alla democrazia e alla libertà. E come spesso succede in politica, questi scontri epocali, perché non si chiamava Guerra Fredda per caso, si combattevano con armi legali e illegali. Questa è la politica, questa è la verità della storia. Dopodiché mio padre ha fatto, ha dato vita al nuovo concordato che sancisce i patti tra Stato e Chiesa. Ha portato l'Italia tra i grani della terra. L'ha portata a essere la quinta potenza economica al mondo. Ha fatto sì che si ponesse gli euromissili e si ponesse fine alla Guerra Fredda. Ha aiutato i movimenti di liberazione in tutto il mondo, a est, a ovest e in Europa. Mi dica lei perché non debba essere ricordato. C'è una piazza in un paesino dell'Odigiano dedicata a suo padre. Ecco la vediamo, piazza Bettino Craxi. Come si chiama questo paesino? Non me lo ricordo. Mi ricordo perché ce ne sono tante di piazze. Perché è un paesino piccolo piccolo. Perché mia nonna era di Sant'Angelo Lodigiano. Ah ecco. Ma c'è un paesino piccolo piccolo e invece Milano proprio non ne vuol sapere. Sala a gennaio. Sta roba che trovo stucchevole. Poi il dibattito sulla via o sulla piazza Craxi. Stucchevole per le reazioni, i termini. Non è un problema toponomastico. No, 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 però Sala aveva detto parliamone. Poi ha fatto cadere la cosa nel dimenticatoio. Ogni tanto torna fuori, tutti la cavalcano e la tirano dalla parte loro e alla fine non c'è una via, non c'è una piazza. Continuo a ritenerla una grande ingiustizia. Una città in memore per quello che ha fatto Craxi per questa città e per questo paese. È anche un'ipocrisia tutta italiana. Cioè abbiamo o piazze o strade a responsabili di ecidi in questo paese. E non abbiamo a Milano la strada per un grande milanese. Ripeto, non è un problema toponomastico. È un problema di verità, di memoria sporica, di riparare un'ingiustizia. Tutto tranne che è un problema toponomastico. Ma anche lei trova, immagino, stucchevole questo dibattito ogni volta che viene fuori. Ah, lo trovo ridicolo. La Moratti l'aveva promessa, non ha avuto il coraggio di farlo. Pisapia disse che i tempi non erano maturi. Io prendo i tassisti, cammino per strada, chiede ai milanesi se non sono disposti a farlo. Io credo che la maggioranza dei milanesi lo siano. Che pensa di tutte queste polemiche che vengono fuori ogni volta da parte di queste persone che cavalcano la storia della via, della piazza? A me sembra intanto un paradosso. Craxi è stato un grande leader della sinistra italiana. E quella che oggi si definisce sinistra, non è la sinistra che io porto nel cuore, non ha il coraggio di fare conti con la figura di Craxi per un semplice motivo. Primo, non ha il coraggio di fare conti con la propria storia, che non è una storia emendabile. E l'altro motivo perché hanno inoculato nel sistema politico italiano il moralismo militante e non riescono più a uscirne, si è ritorto contro di loro. Mentre quella volta si parlava di un fenomeno di sistema inquadrato in un periodo storico che si chiamava Guerra Fredda, oggi per lo più si parla di furti e ladrocinio. Che è un'altra cosa, perché la corruzione è un reato penale, come tale va provato e condannato. E quindi questi sepoltri imbiancati, moralisti dei miei stivali, perché si nascondono dietro questa cosa, indicando Craxi come che? Il capro espiatorio di che cosa? Io francamente mi fanno alla fine un po' tristezza e penso che sia semplicemente una mancanza di coraggio, di verità e anche il coraggio di fare i conti con la propria storia. Che coraggio ci vuole dopo tutto il tempo che è passato, dopo che il paese è anche maturato sotto un certo punto di vista. Dovrebbero dire Craxi aveva ragione. Craxi è stato l'alfiere dell'unica sinistra che ha retto il confronto con la storia? Sconfessare Mani Pulite che li ha portati al governo? Non è facile. Guardi, a proposito di Mani Pulite, questa immagine, io non le voglio chiedere un giudizio su questa persona che è Di Pietro, come vediamo, ma le volevo chiedere se lei in qualche modo si è riappacificata con lui. Sinceramente non lo considero. Lui è stato semplicemente un burattino, è stato usato e quando non è più servito l'hanno buttato, per cui non trovo motivo di dovermi occupare di Di Pietro a cui non riconosco la statura, né morale, né politica, né anche grammaticale per parlare di mio padre. Mi ha risposto. Qualche settimana fa era uscita questa notizia in cronaca. Bobo Craxi e Antonio Di Pietro che dichiaravano le medesime simpatie politiche per un partito, MDP articolo 1. Cos'è secondo lei il risultato di un momento davvero caotico che sta attraversando la sinistra italiana? Cos'è sta roba qui? Essere fratelli non comporta il fatto di pensarla alla stessa maniera. Io con mio fratello non la penso alla stessa maniera su tanti argomenti pubblici e privati. Rimane mio fratello, il voglio bene come si vuole bene a un fratello. E anche qui mi ha risposto. Ma torniamo a Di Pietro e guardiamo questo video tratto dall'aria che tira di La Sette. Tu non devi giustificare nessuna violenza. Ma come fai a giustificare queste cose? Il colpo di stato di mani pulite nel 92 è stato un colpo di stato. Il colpo di stato di mani pulite. Ma dove viene questo discorso? Ho distrutto io o ho distrutto quelle che hanno rubato? Ma dove cazzo non lo stai? Ma mi scappa pure la parola. Ma la colpa è di noi che abbiamo scoperti i lati. Ogni lati che hanno abbastanza tutto il paese. Ma che cazzo stai dicendo? No, no, di Pietro. Ma che cazzo? Allora, non si scomponga. Mani pulite nel 92 fu un colpo di stato con il quale si distrusse una prima repubblica fondata sui diritti sociali dei lavoratori. Sì, è quelli che rubavano chi erano. 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 Allora, di Pietro. È quelli che rubavano chi erano. Ma ne pulite fu un colpo di stato. Ma ne pulite fu un colpo di stato. Che gara. Punto. Questo fu. Capisco che lei si scomponga e non deve perché ha male alla salute. Adesso ho a che fare con una persona che non capisce di che sta dicendo. Non si sente conto di quello che sta dicendo. Le sta confondendo. Mani pulite lo San Centropolis. Le sta confondendo. Chi ha scoperto il radico e chi le ha commessi. Ma che sta dicendo? Sta offendendo la sua intelligenza. Ma no, sta offendendo. Io sto... Se è lei che sta offendendo la intelligenza dell'italiano. È la prima volta in vita mia che per calmare gli animi do la parola. Ha visto con che rabbia, e uso un termine, cioè non dovrei dire rabbia, ma insomma, ha visto con che rabbia Di Pietro difende il suo lavoro? Allora, vorrei dire tre cose brevemente. Anche non brevemente. La prima, in casa mia, nessuno ha mai rubato niente. Non c'è nessun atto corruttivo, nessuna sentenza che identifica un fatto reatto nei confronti di mio padre. Anche quelle che sono arrivate in Cassazione. Crack si è stato condannato perché non poteva non sapere. I documenti sono pubblici, quindi sono lì da leggere. Punto primo. Punto secondo, penso che chi rappresenta le istituzioni, una qualsiasi istituzione dello Stato, abbia il dovere dell'esempio. E quindi quel comportamento lì non lo dovrebbe tenere nessuno. Terza cosa, se vogliamo essere seri e ragionare sulle cause, nello sfascio del sistema politico che è sotto gli occhi di tutti, allora bisogna essere seri e ragionare su cosa è successo 25 anni fa. e si legge molto facilmente, basta vedere che cosa è successo, mentre qua infuriava lo scontro, i giornali, la polemica politica, le manette, che cosa è successo intanto nel patrimonio pubblico dello Stato. Il patrimonio pubblico dello Stato è stato svenduto a prezzi d'incanto, a un sistema di amici degli amici. Basta andare a guardare in quegli anni le speculazioni internazionali che sono state fatte contro il nostro paese, quanti migliaia di miliardi ha perso il nostro paese. Non costavano i partiti quelle cifre lì, quei miliardi lì. Quindi se uno vuole leggere seriamente Tangentopoli e seriamente ragionare sulle conseguenze, allora è una cosa, quello è uno spettacolino serale o mattiniero. La prima repubblica era una repubblica dei partiti, come tutti i periodi storici non era perfetto, ma no, perché l'uomo è perfetto. C'è una questione morale ovunque ci sia un consenso di umani. Però è stato un periodo storico in cui un paese, povero e contadino come era l'Italia uscita dalla guerra, è riuscita a diventare, grazie al sacrificio, alla volontà di conquista, di lavoro di un paio di generazioni, la quinta potenza economica al mondo. Mi piace ricordarlo sotto il governo di Bettino Craxi. Allora è stato dovuto al solo sacrificio degli italiani, molto al sacrificio degli italiani, ma anche a delle guide politiche lungimiranti e soprattutto una politica fatta di esperienza, di coraggio, di responsabilità, perché non si può pensare che l'unico campo del pensare umano che non richiede esperienza sia la politica. Ne richiede di più. Oddio, a vedere quelli che ci stanno ora e i tanti che si imbarcano viene da pensare così. Eh sì, ma perché non hanno nessuna esperienza, ma perché avendo distrutto i partiti, i partiti cosa facevano? Delle cose fondamentali. La prima selezionavano le classi dirigente politiche e la selezione era durissima, perché era la scuola della vita, della strada, ti mandavano nelle periferie. Poi facevano il consigliere di zona, poi forse il consigliere comunale. Ma ti mandavano nei paesini a fare il consigliere comunale prima di arrivare in città, se eri bravo. E quello scontro, quel confronto politico, anche duro, ma forgiava la classe dirigente. Io non voglio che i parlamentari guadagnino poco o gli amministratori guadagnino poco, ma pretendo che siano competenti. E quella volta i partiti facevano quello, la selezione della classe dirigente. Consentivano anche, mi perdoni, ma tanti figli di nessuno di allearsi e diventare i padri di qualcuno. Io sono figlia del censo, mio padre non lo era. E quindi consentivano a un giovane che aveva volontà di farsi avanti, di lavorare, di conquista, di battersi per il suo paese, di poter entrare. La seconda repubblica, la selezione della classe dirigente politica è stata fatta, e non mi tiro fuori, attraverso il favore del potente di turno. Non è un buon modo per selezionare la classe dirigente politica, come non è neanche un buon modo votare 60 volte con un tweet. Ci siamo capiti. Tornando a Mani Pulite, è diventata fortemente nazionale popolare, ne hanno persino fatto delle fiction di successo. Lei che è anche nel mondo dell'imprenditoria televisiva, avrà sentito parlare di 1992-1993, le fiction. Cosa ne pensa? Intanto io ho fatto il produttore 20 anni, e le dico che era un pessimo prodotto. Ma ha scritto, ma ha recitato. Quando lei faceva il produttore si lavorava ancora con i soldi, con la testa, con autori veri. Certo, anche perché il degrado che è politico, civile, morale, riguarda tutto il paese e tutti gli ambiti, purtroppo. E quindi era un brutto prodotto, e non ha avuto tutto il successo che gli si accredita. I numeri sono stati fortunatamente molto bassi. Guardi, io penso una cosa, che la stragrande maggioranza degli italiani, se non altro perché fanno il confronto con la loro vita. Abbiano capito che cosa è stata, che quella era una falsa rivoluzione, che ha gettato il paese in una situazione drammatica, da cui non siamo ancora usciti, nonostante 20 anni e più che sono passati. Il blocco è ancora nel mondo politico, nel mondo giornalistico, di chi dovrebbe sconfessare un'azione, di chi dovrebbe dire non ho capito cosa stava succedendo. Ma guardi che quello che è successo in Italia in modo molto violento, perché il sistema era marcescente, andava riformato, vero, Craxi lo diceva dal 78, sta succedendo in tutte le democrazie del mondo occidentale. Bisognerebbe interrogarsi come si è inceppato il sistema democratico. La Merkel, notizia di questi giorni, non sta riuscendo a fare il governo. Trump, in America, non riesce a far passare uno dei suoi provvedimenti dal congresso. In Francia si sono sfasciati i partiti storici. Perché accade questo? La globalizzazione, che non è stata affrontata dall'Italia, ma anche dall'altra nazione europea, come delle grandi nazioni, ha portato a questo sfascio. La finanza, l'economia, ma più ancora la finanza, è diventato un potere fortissimo, incontrastato. La politica non governa più, i meccanismi democratici si rivelano troppo lenti per governare quei processi che sono diventati velocissimi, squilibrati, perché non fanno che creare ingiustizie. E questi sono i temi da porsi, non le strille in televisione a quella maniera. Torniamo dopo la pausa. Stefania Craxi, non l'ho chiesto, lei farà ancora politica attiva, nel senso, si candiderà? Io non so esattamente cosa rispondere adesso, nel senso che la politica non è una carriera. La politica è un appassionaccia. Nel mio caso era una signora che sedeva a tavola con noi. Quindi io questi anni sono stata fuori, faccio politica tutti i giorni con la fondazione Craxi, però la politica attiva in quel senso mi manca, anche se poi mi manca molto il branco, mi mancano le comunità politiche e quello è difficile oggi ritrovarle. Lei crede che Silvio Berlusconi possa essere ancora il leader del centro-destra del futuro? Beh, lo è, di fatto lo è. È l'unica persona e questo vuol dire che la politica in questi anni non ha creato niente, non c'è stato ricambio, ma è ancora l'unica persona che nel centro-destra può guidare, mettere insieme, rassicurare l'elettorato moderato e comunque rimane alla persona in questo momento più di esperienza nel campo della politica. Ricordiamoci che comunque non è eterno alla sua bella età e per quanto ha la sua bella età ed è preoccupante il fatto che non ci sia un ricambio. Non è lui che se li mangia tutti, sono gli altri che non ci sono. Io penso che se non si ristabiliranno nei partiti delle regole, prima di tutti quelli di selezione della classe dirigente politica e delle regole che una volta c'erano, non si uscirà da questa situazione perché un conto è inventarsi un personaggio mediatico e farlo vincere delle elezioni, un conto è governare un paese con tutte le difficoltà, le società che sono fatte di persone per bene, per male, le società sono complesse, persone che abbiano l'esperienza per trovare una sintesi e trovare le migliori soluzioni per il paese. Senza esperienza questo non sarà possibile e io credo che solo ristabilendo delle regole nei partiti, forse non ci saranno più partiti con le sezioncine, però delle regole vanno ristabilite. Berlusconi aspetta un pronunciamento molto importante, quello della Corte Europea per capire se la Severino possa essere applicata anche retroattivamente e come succederebbe nel suo caso. Lei è fiduciosa? Craxi dalla Corte Europea di Strasburgo ha avuto ragione, poi magari voi giornalisti non l'avete riportato molto, però ha avuto ragione e quindi speriamo. Cosa pensa? Anche perché io penso sempre che l'avversario politico si deve battere con le armi della politica. E magari sì, anche no? Non con armi che con la politica non c'entrano. Cosa pensa degli altri leader del centrodestra? Chiamiamoli leader. visto che lei tentenna nella risposta io ho detto chiamiamoli leader. Chiamiamoli leader. Io purtroppo ho un problema. Che non riesce a chiamarli leader? Che non vede leader? Il mio problema è che io ho avuto la grandissima fortuna nella mia vita di sentire il respiro lungo della storia e il fiato corto della cronaca non mi appassiona. E poi io le chiedo Salvini Meloni io ero conosciuto un capo nella mia vita che era anche mio padre e quindi quello noi ci abbiamo. Mi è difficile riconoscere altri. Quello ci abbiamo. Che pensa di Salvini? Ma sa tutti si scagliano contro il populismo. Allora se ci sono i populismi è perché le cose vanno male. Non è che ci sono i populisti e quindi le cose vanno male. Quindi anziché scagliarsi contro i populismi e quindi contro il Salvini di turno bisognerebbe interrogarsi che cosa non ha funzionato in Italia cosa non funziona e cosa non ha funzionato in Europa. Meloni? Meloni è una ragazza che conosco poco ma conosco che viene dalla politica viene da una cultura minoritaria in questo paese e quindi rappresenta tutt'oggi una parte minoritaria del paese. Senta in qualche modo della sinistra abbiamo già parlato ma dei 5 Stelle quindi gli altri avversari che opinione ha? Siamo sempre lì è il sintomo di una malattia finché non si curerà la malattia la febbre non scenderà quindi è un elettorato di persone arrabbiate però ci si deve chiedere perché sono arrabbiate ma sono giustamente arrabbiate quelle persone sono giustamente arrabbiate non è la soluzione nel senso che fin tanto che la politica non darà risposte quella rabbia non calerà fin tanto che la politica non tornerà a dare l'esempio quella rabbia non calerà e quindi in qualche modo loro umbrano però se mi dice li ritengo in grado di andare a governare il paese le rispondo di no c'è da preoccuparsi se questi vanno al potere? io c'è da preoccuparsi che le prossime elezioni non consegneranno una maggioranza al paese e quindi che succede? si rivota dopo pochi mesi? sta succedendo la Merkel impressionante quello che sta succedendo ripeto non solo in Italia ma in tutto il mondo occidentale Renzi? non mi è mai piaciuto non mi ha mai convinto neanche in quel periodo in cui si presentava in televisione tutto bello dinamico ero l'unica nel consesso degli amici miei e di mio marito che diceva ha sempre detto non mi convince non ha esperienza non ha pazienza non ha visione per quanto mi riguarda quando disse Craxio Berlinguer una domanda di Fabio Fazio lui rispose ovvio Berlinguer non lo ritengo neanche un riformista ma neanche per 5 al di là dell'aspetto neanche per 5 minuti durante la fase televendita slide auto blu lasciata dietro l'angolo allora io ho diversi vantaggi uno ho un termine di paragone che mi fa molto come dire fare un confronto e dal confronto non e poi sono una donna le donne ho stesso senso e ce l'hanno le assicuro non mi è mai piaciuto del trono lei può vedere le mie dichiarazioni sono pubbliche e non ho mai cambiato l'idea anche se dal primo momento no non mi è mai piaciuto e non queste carriere repentine te molto televisive molto mediatiche non mi convincono mai senta le faccio una domanda che sembra stupida ma perché lei non ha mai lasciato l'Italia perché cioè la descrizione che lei dà del paese risponde molto a quella che è la realtà cioè non è che lei si sta facendo un film particolare il paese è quello che vi ha raccontato lei nel corso di questa intervista ed è anche un paese senza prospettive non vi è su niente allora mio padre mi ha insegnato male l'Italia è il paese che amo voglio che qua venga ristabilita la verità e venga resa giustizia a mio padre voglio che i miei figli concorrano affinché questo paese riprenda la strada e il posto di una grande nazione come deve essere e quindi perché dovrei scappare o andarmene sai che rischia di essere una battaglia persa? non dico persa ma bella lunga se dicessi persa me ne andrei io per primo però se ognuno ricominciasse a fare nel suo piccolo quello che può io penso che piano piano questo paese non sono sparite le intelligenze la capacità di immaginare idee soprattutto di realizzarle la volontà di sacrificio degli italiani di conquista io non penso che siano scomparse pensano penso che ancora oggi se ben dirette ben guidate ben organizzate potrebbero fare in modo che si uscisse da questa lunghissima crisi in un arco ragionevole di anni e poi come dire non sto ragionando sulla prossima elezione la ragiono sul futuro di questo paese guai se tutti dicessero questo paese è finito come sta finendo è su un piano inclinato ma non facesse nulla perché il paese si risollevi la fondazione Craxi me l'ha appena portata non ho avuto modo di vederlo edita questa rivista trimestrale le sfide non c'è futuro senza memoria cosa studiate è una mia convinzione profonda è fatto di è una trimestrale di riflessione politica oggi la riflessione politica è spesso consegnata ai pochi caratteri di un tweet la visione è al massimo raggiunge i tre mesi delle prossime campagne elettorali cerchiamo di dare un contributo al dibattito pubblico così asfittico quindi ci sono riflessioni di persone anche che hanno coraggio di sfidare il politicamente corretto che non vogliono camminare sui sentieri dell'ovvio e come dicono le belle parole di una canzone italiana affronteremo questa nuova sfida si chiama le sfide il trimestrale che si scarica via internet gratuitamente con un piede nel passato e lo sguardo dritto aperto sul futuro quando le capita di essere riconosciuta e fermata per strada che cosa le dicono la cosa più bella e la cosa più brutta per banalizzare che si è sentita dire mi sento dire tutti i giorni da più persone al giorno quando c'era suo padre noi stavamo bene questo paese contava qualcosa nel mondo e la cosa che l'ha fatto più male anche recentemente? ma devo dire che il numero degli haters è molto diminuito sono gli odiatori sui in quelle idee però negli anni ho avuto insulti però dire che mi fanno male no anche perché ho una convinzione profondissima la storia di Racchi è stato Craxi grazie a Stefania Craxi abbiamo cercato di dialogare di di non fare una cosa urlata sensazionalistica e devo dire che è uscita una parte di lei che molto spesso non esce che è una parte molto di cuore e per questo non l'ho interrotta durante la conversazione grazie grazie a Stefania Craxi grazie a tutti voi alla prossima grazie a tutti